Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Se l'ho dato Gesù Cristo, cari bambini, Oggi inizieremo a considerare il terzo comandamento della legge di Dio. Ricordati di santificare le feste. Quanto è giusto e conveniente questo comandamento. Pensate, quel primo comandamento Dio ci obbliga santamente a venerarlo, a onorarlo con il cuore. Amerai il Signore Dio tuo. Amerai, non avrai altro Dio fuori che me. Quindi il primo comandamento ci obbliga a onorare Dio con tutto il cuore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutte le tue forze. Amerai. Il secondo comandamento, invece, non nominare il nome di Dio in vano, ci obbliga a onorare, amare Dio anche con la bocca. Anche con la bocca. Quindi non nominare, non pronunciare, non dire il nome di Dio in vano. Figuratevi dire il nome di Dio con disprezzo. Figuratevi pronunciare il nome di Dio con una bestemmia. Se già Dio ci ha vietati di pronunciare il suo nome di Dio in vano, figuratevi, offendere Dio con una bestemmia. Allora, il primo comandamento ci obbliga a onorare Dio con tutto il cuore. Il secondo comandamento ci obbliga a onorare Dio con la bocca. Il terzo, ricordati di santificare le feste, ci obbliga a venerare Dio con le opere. Infatti, Dio ha voluto che ci fosse un giorno stabilito nel quale gli uomini fossero intenti al suo servizio. Una delle ragioni per le quali dobbiamo noi santificare le feste è questa. Lo Spirito Santo aveva previsto che a un certo momento ci fossero uomini che avrebbero negato il dogma, la verità della creazione. Ci sarebbe un tempo in cui gli uomini avrebbero negato che Dio ha creato tutte le cose dal nulla. Qualcuno avrebbe detto perché il mondo sempre c'è stato, altri perché c'è stata un'evoluzione che viene da secoli, da secoli, da secoli, che non sappiamo quando ha cominciato. E proprio noi ci siamo, perché ci sono tanti che affermano questo. E allora, per ricordare il dogma, la verità della creazione, cioè che Dio ha fatto dal nulla tutte le cose, Dio si è riservato un giorno. Dio ha comandato agli uomini che nel settimo giorno guardassero, santificassero quel settimo giorno. Quindi, Dio nostro Signore ha creato il mondo in sei giorni, nel settimo giorno si è astenuto dal creare nuove creature e ha voluto che quel settimo giorno fosse santificato. santificato per ricordarci che il mondo cominciò, che il mondo è stato creato, non è eterno, non è frutto di un'evoluzione di cui non sappiamo quando è cominciata. Quindi il mondo è cominciato con la creazione, con un atto della volontà di Dio. Quindi la santificazione della domenica ci ricorda questa verità. Il mondo è stato creato dal nulla, Dio è il creatore, ha fatto tutta la creazione in sei giorni, nel settimo giorno si è riposato. E per onorare la creazione, onorare il riposo di Dio, noi alla domenica, noi alla domenica ci asteniamo del lavoro e santifichiamo la domenica. Allora, nell'antico testamento, i giudei santificavano il sabato. Noi cristiani, nel nuovo testamento, santifichiamo la domenica. Perché? Allora, i giudei celebravano il sabato in memoria della prima creazione. La prima creazione è la creazione in cui Adam e Deva sono stati creati. È la creazione in cui c'è stato il peccato originale e l'uomo cacciato via dal paradiso e tutta la sofferenza e l'esilio. È la prima creazione in cui le porte del paradiso sono chiuse. Gesù, nostro Signore Gesù Cristo, è venuto per fare la nuova creazione. È Gesù che comincia la nuova creazione. Nella prima creazione c'è l'uomo terreno, cioè l'uomo che pensa alle cose di questa terra, che si è dimenticato della sua dignità di figlio di Dio, che si è dimenticato della sua finalità ultima che è il paradiso, e che vive come le bestie, vive solo per la terra. Mentre che nella seconda, la nuova creazione, cominciata con il suo Signore Gesù Cristo, c'è l'uomo celeste, l'uomo che ha sì i piedi per terra, ma la testa in cielo. E questa nuova creazione è in virtù della grazia. La nuova creazione è fatta in virtù della grazia. L'uomo celeste è celeste in virtù della grazia. La grazia comincia per noi con la resurrezione. È la resurrezione di nostro Signore, con la sua resurrezione comincia. Nostro Signore che comincia a dare, distribuire, trasmettere la sua grazia. Vi ricordate, nel giorno di Pasqua, nostro Signore soffia sugli Apostoli e trasmette loro già lo Spirito Santo e da loro non solo il perdono dei peccati, ma anche da loro la capacità di perdonare i peccati. Quindi istituisce il sacramento della confessione. Quindi la nuova creazione comincia con la resurrezione di nostro Signore. e la resurrezione ebbe luogo la domenica, il primo giorno della settimana. Per questa ragione noi celebriamo l'inizio della nuova creazione, che è la domenica, e perciò noi cristiani santifichiamo la domenica. Allora, cari bambini, la domenica è giorno per onorare Dio con le nostre opere. E noi vedremo nelle prossime puntate come santificare la domenica. Se lo dato Gesù Cristo. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. www.radioromalibera.org.